Pronto? Pronto? Ciao scufons! Il mio amico Stefano Vegliani mi ha parlato spesso della scufonete delle manifestazioni Telemark e mi è venuta una curiosità. Ragazzi, perché non mi invitate? Dai! So che se magna, si beve e io sarei l'uomo immagine adatto per voi. Ma ditevi un po', sto Telemark è davvero così faticoso? Io per inginocchiarmi mi inginocchio, faccio un po' di fatica a rialzarmi, ma ho fatto canottaggio e non penso che avrei problemi. Io ho anche il fisico per fare Telemark, sono robusto come quello lì, il vostro presidente, che chiamate Elvecio. È vero, ho un po' di pancia, ma che vuol dire? Anche il sito di Moena ha della panciotta, ma so che asciare si riflette bene. Ho sentito prima la telefonata di Berlusconi e Prodi, lasciateli perdere quelli lì, sono due politici, come si usa dire, che magnano, no? E devono per professione e vivono soprattutto sulla spagna degli italiani. Almeno io sono meglio, no? Magno e bevo per passione. Grandi! Quei due ho sentito che parlavano di sto Mela Dai Dai Dai. Ma è che è sta roba? Se è una cosa seria arrivo io. Ho sentito prima la vostra pubblicità di sta grappa Mela Dai, ma il motto più Mela Dai, meno, 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 l'ho inventato io. Tutti i diritti, eh? Da quel tedesco lì che avete trovato? Li voglio io. Cari scufons, mi sa che vi conviene invitarmi, eh? Vi costerò un po' i pranzi e cene, ma ve lo rilancio io sto telemark. Ora vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una felice serata. Ciao a tutti, grandi, ciao, 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 ciao. Ma va a fa culo gli scufosi il telemark e tutti quanti, avete rotto i coglioni, capito? Stanno a mangiare più del governo e non mi vedono neanche Vaffa, culo, se vuoi più